e salve a tutti amici cooperiani e bentornati in questo nuovissimo e primissimo video su scam finalmente uscito se avete visto ho fatto un server mio e vi ringrazio a tutti perchè siamo sempre comunque dai 30 in su poi comunque dai 30 in su e adesso siamo al secondo giorno che è uscito il gioco e insomma è anche il server e comunque c'è il secondo giorno che continua a stare sulle 30 persone e sul 50 sono contento poi secondo me nel tempo che si va usciranno i video e tutti continueranno a conoscere il server magari diventerà anche pieno poi magari si aumenterà anche a 64 chi lo sa allora per chi avesse visto il video dove annunciavo il server cosa è successo in questi due giorni il server andava male chi ha visto la live si vedeva desincare davvero davvero tanto perchè il provider non ci davano le stesse cose che danno a dei server ufficiali non davano le stesse macchine potenti e quindi io mi ero rotto le palle di quel desinc non si poteva giocare così poi la gente si stancava ho scritto al provider gli ho detto sentite c'ho un canale youtube il mio server sta andando molto molto bene e ho bisogno che comunque la gente che entra abbia una bella esperienza quindi ho bisogno che mi migliorate l'hardware qualcosa eccetera loro mi hanno spostato il server di macchina e funziona davvero davvero bene questo è un video fatto nel nuovo server comunque il server è lo stesso è cambiato l'ip che trovate in descrizione con insieme al nome e adesso il desinc è quasi zero se non zero cioè vabbè ovviamente ci sono i classici lag che hanno tutti i server però funziona davvero 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 molto meglio allora sinceramente volevo commentare un po' la parte iniziale dove c'è stato quel fight con quelle due persone io ho perso il file audio di questa di tutta questa registrazione che erano quasi tre ore di registrazione ma audio city mi buttava fuori solo un'ora e tre minuti di registrazione dopo un'oretta che ho cercato di smanettare non ci riuscivo e quindi questo lo facciamo a commentare poi gli altri cercherò di farli di non farli così lunghi ecco e la prima parte cosa c'è mi ha fatto quel fight io dicevo buttate giù le armi buttate giù le armi e niente non volete mai mettere giù poi abbiamo iniziato a sparare ma dopo sono morto perché a me mi si era bloccato cioè c'è stato quel freeze che mi ha ucciso poi non trovavo il cadavere ci ero passato sopra e non lo vedevo poi non aveva trovato Grifax la nostra missione tra virgolette missione mi sembra era quella di andare in B4 e arrivare andare nel bunker nel bunker militare quindi questo è un sono dei piccoli insomma questo è il nostro viaggio verso il bunker e abbiamo trovato questo campo di cocomeri un cocomero ti dà quattro fette e una fetta ti riempie completamente e peccato che l'ho mangiata in un cespuglia andata male non me l'aspettavo e se qui alzavo il volume al massimo si sentiva me che urlavo dalle cuffie di Grifax che poi si risentiva nel suo microfono e niente cioè dai eravamo qui nel cespuglia ad aspettare la stamina a parlare un attimo di cose e niente ecca carazzo di diarrea però a me non me ne è fregato niente e mi sono mangiato un'altra fettina di cocomero perché avevo fame siamo arrivati a destinazione dovevamo correre un me che ci aveva spottato da destra però fortunatamente diciamo che ci si aveva il rialzo dalla nostra parte quindi siamo arrivati insomma in cima che sinceramente non era la zona che volevamo in disco diciamo noi avevamo il nostro Raffi che è pure il moderatore delle live che non si fa mai vivo cattivo Raffi e niente mentre c'era Grifax lì molto quattro quattro e si fa o a te facciamo veloci io ero qui a farmi i cazzi miei a luttare ho detto ma sai che c'è tanto c'è il mezzo Grifax sta fermo se trovo qualcosa di gnagnore è tutto mio quindi siamo a posto no? e quindi niente mi sono fermato un pochettino a lottare e mi dispiace davvero tanto di non essere riuscito a insomma a fare un gameplay normale ecco perché ho perso i cosi della voce però devo trovare un po' come fare questi tipi di video perché non li ho mai fatti diciamo un conto è Tarkov che Tarkov va alle partite quindi succede qualcosa di buono in una partita e via la partita può durare mezz'ora e via invece qua no qua in due ore e mezzo sono riuscito a fare questo video dieci minuti dove ho messo magari puntini un po' più salienti però niente di che perché la mappa è grande e magari cioè non è semplicissimo trovarsi però comunque ci si trova e anche in live nella prima live in tre ore ci siamo trovati davvero in diversi e se non ve la siete persa insomma andatela a rivedere anche se sono tre ore però ci siamo divertiti davvero tanto anche se per colpa di desync che ci sono anche scappate alcune persone ehm arriva eh sì per il desync perché si teletrasportavano quindi qui ora è successa una cosa ganza io sono arrivato qua nel sacco di sabbia per buttarmici giù guardare un attimo che facevo i mech e niente gli ha preso un attacco di diarrea e quindi qualcosa è iniziato a spararmi e qui pensavo di essere in salvo ho detto ah dai romale è in salvo il mio vino e invece no mi sono spaventato ancora di più quando inizia quando si alza è la fine ho detto è la fine se questo mi spara e mi spara questo mi becca in testa è la fine mi one shot però ce l'ha fatta avete visto l'ho asciugato il sudore e mi dire uh l'ho scampata poi vedo questo qua a correre wow 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 chi è? chi è che corre nel nostro territorio ed io io come vedete li parlo chi è? chi è? chi è? e poi sento eh sono io eh ma ma io chi? eh sono Pug cazzo Pug c'è davvero la prima volta nella prima giocata dovevo trovare Mario insomma un ragazzo che ci conosciamo come seconda partita dovevo trovare Maxi e Alex e qui Pug cioè meglio no? eh poi qui avevo un'idea c'era il Mac lì baggatissimo ho detto i cespugli funzionano se ti scinascondi dentro funzionerà la smoke se lo copri completamente se ti copri la visuale qui il Mac praticamente a me sembrava coperto c'è la smoke c'era mi colpisce una volta ahia io lì mi blocco niente salto freeze muoio però fortunatamente avevo abbastanza punti sono rispondato vicino al compagno che risponda davvero davvero vicino eh dopo tanto tempo insomma dopo un po' di laccheggini sono riuscito a raggiungere il mio corpo e a riprendere le cose e dicevo ma forse non basta quell'alberesco questo alberillino qua piccolino piccolino però bastava però bastava quindi sono riuscito a a prendere tutto quello che avevo che davvero ero lì e dicevo dai speriamo di riuscire che qualcosa si sbaghi qualcuno riesca a causarlo a baitarlo così riesco ad entrare nella insomma dove devo entrare e niente diciamo che non è andata come mi aspettavo perché adesso io mi alzo me ne vado indietro questo mi colpisce una volta mi metto dietro ma frizza morto però e fate attenzione in alto a destra i miei punti ho davvero avevo davvero davvero spammato spawn random per riuscire a spawnare vicino dal mio riprendere le cose non ce l'ho fatta però vabbè i punti fa ma si rifanno molto facilmente credo di essere già ritornati in positivo perché comunque ho fatto tante cose sono arrivato in questo punto e mi sembra in B3 in alto una zona militare davvero gnocca come zona perché in solo questa quella casettina lì in quel dormitorio lì mi avevo preso un fottio di roba poi vabbè ho buttato tutti i dormitori tutti gli hangar e mi ero rifatto davvero un bel equip davvero davvero un bel equip vi dico che il mio server ha due e mezzo sul loot invece di uno perché respawnava ogni due ore adesso ogni mezz'ora che è perfetto secondo me ogni mezz'ora i robot fanno il danno base sarebbe uno nel mio fanno 0,80 però alla fine one shot fanno malissimo comunque poi qui un piccolo pezzettino di io che uccido questi zombie questo non è morto in one shot invece quest'altro si e guardate lì che bello ha muoio quando gli spari lo becchi muoio comunque questo video sta per finire a breve quindi io vi ricordo che sono già usciti forse i video quelli dove c'è scritto la cosa iniziale che faccio live su twitch martedì giovedì venerdì e domenica però ho deciso di farlo su youtube così ci sarà una live un'ora di live per 4 volte quindi ci saranno 6 contenuti invece che 2 e così miglioriamo tutto secondo me voglio concentrare su youtube perchè come ho detto greyfox è inutile se sei piccolo su youtube e iniziare anche su twitch che sei piccolo entrambi quindi concentri su youtube quindi niente ragazzi che dirvi io vi ringrazio davvero per la visione spero che questo video vi sia piaciuto e spero di trovare il miglior modo per fare altri video di scam e insomma per farne di più ok nel breve senso possibile quindi io vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video bye bye ciao 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 Grazie.